A luglio sono stato rinviato a giudizio per l'aiuto dato a DJ Fabo ad andare in Svizzera. Oggi ho chiesto il giudizio immediato, cioè di andare direttamente a processo, perché voglio che in Italia finalmente si possa discutere di come aiutare i malati a essere liberi di decidere fino alla fine, sia quando lottano per vivere, sia quando decidono di fermarsi. Il processo sarà un'occasione per discuterne ed è bene che sia il prima possibile. Certo, dovrebbe occuparsi nella politica, però la nostra proposta di legge dell'Associazione Luca Coscioni per l'eutanasia legale è ferma da 4 anni in Parlamento e c'è il rischio che non riescono a decidere nemmeno sul testamento biologico. Allora, Fabo ha avuto il coraggio di rendere pubblica la propria richiesta. Io spero che ora i parlamentari abbiano il coraggio di assumersi le proprie responsabilità e di decidere finalmente. In ogni caso, ci sarà il mio processo senza ritardi e grazie a chi vorrà dare una mano.